Nella gennaio di oggi 28 gennaio 2016 nel web era circolata una notizia del tutto falsa lo tengo a specificare del tutto non vera in cui si sarebbe letto che Piero Balaroni era morto in realtà sta benissimo infatti è vivo il vecchio e oggi è 28 gennaio 2016 so che gira la voce che io sia morto così avrebbe detto scherzosamente il buon Piero Balaroni ex presidente della regione Lazio è da qualche ora che non faccio altro che risponda a telefonate una prima volta che un sito web fa un errore nei miei confronti il tempo fa mi attribui un avviso di garanzia mai preso questa volta però il panico, la paura, la preoccupazione, l'ansia e per così dire la sensazione di vedere morto un personaggio autorevole e straordinario come Balaroni purtroppo c'era dunque una falsa notizia che è poi circolata nel web che è poi imbalzata nella vita reale tra addirittura colleghi ed amici del buon Piero ma tutto per fortuna si è risolto infatti il buon Piero Balaroni ripeto che è vivo, è vivo e ben chiesto iscrivetevi se vuoi, chiedete la tua vita perché sei veramente un nuovo straordinario il video termina qua iscrivetevi, commentate se in tali video fossero presenti direi niente a te se non mi scuso in quanto chi vi parla non mi ha un'unica vista pertanto iscrivetevi su di me eventuali responsabilità di qualsiasi vuoi natura grazie 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 grazie